La nascita del nuovo centro permetterà di svolgere ricerche integrate e multidisciplinari in cooperazione sulla biodiversità, le risorse e le biotecnologie marine per uno sviluppo ecosostenibile. Due piani dell'edificio di Viale Adriatico, il piano terra e il primo piano saranno dedicati al centro. Il secondo e terzo piano resteranno di esclusivo utilizzo del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna, che è consegnataria dell'intero stabile. Sarà l'alma mater dunque a farsi carico delle opere edili di rifunzionalizzazione mentre tutti gli altri enti, tra cui Comune di Fano, Università di Urbino e Politecnica delle Marche, Stazione Zoologica Anton Dorn e il CNR, parteciperanno alle spese e collocheranno nel centro le proprie attrezzature. Al piano terra verrà ripristinato l'acquario con diverse specie all'interno. Ci orientiamo su specie che popolano l'Adriatico, alcune più conosciute, alcune meno e poi avremo dei focus su coralli per parlare dei cambiamenti climatici, per parlare un po' dell'attualità e di ciò che sta avvenendo nel mondo in questo momento e non ultimo qualcosa anche sulle specie aliene. La stazione zoologica Anton Dorn si occuperà di installare e finanziare le nuove vasche, di riallestire l'acquario e ne curerà con proprio personale la gestione. Quanto ammonta l'investimento di questo progetto? Complessivamente il nostro ente investirà circa un milione di euro e da gennaio saranno operativi i cinque ricercatori in sede. Si può già stimare una data per la fine dei lavori? Direi circa un anno. Mi piacerebbe finirlo entro il 2020, però vedremo se ci riusciremo. Ovviamente il progetto prevede l'acquario, ma anche l'introduzione, come diceva prima, anche di convegni utili. Sì, questo deve essere un centro, un vero hub, un pensatoio per la ricerca marina, dove in realtà i protagonisti sono i ricercatori, ma questa struttura diventa aperta, non solo per il pubblico che viene a vedere l'acquario, che viene a visitare il museo, ma per tutti gli studenti che vogliono vedere come si fa la ricerca. L'obiettivo delle parti che hanno firmato l'accordo è quello di realizzare ricerche che possano portare alla partecipazione congiunta a programmi competitivi in ambito regionale, nazionale e internazionale. Numerosi sono i campi di ricerca su cui i ricercatori saranno impegnati, dalla biologia ed ecologia marina, allo studio degli organismi del mare.